Appuntamento settimanale dedicato alla rubrica nutrizione e benessere curata dal dottor Andrea Ricci che oggi ci parlerà di un cereale, l'avena. Dottore, quali sono le proprietà di questo cereale e poi diamo anche i consigli per come mangiarlo e insomma come prepararlo. L'avena è un cereale conosciuto sin dai tempi molto antichi, anche se in realtà già tra i greci e i romani non riscuoteva un grande successo, tant'è che veniva lasciato ai cavalli preferendo invece il consumo di altri cereali. Ultimamente invece è stato un po' riscoperto e molto spesso viene utilizzato soprattutto in fiocchi per la colazione della mattina. Oltre ai fiocchi ovviamente dell'avena si possono consumare anche i chicchi, la farina e anche il latte. È una pianta annuale che appartiene alla famiglia delle graminacee, per 100 grammi apporta all'incirca 390 kcal, è ricco di sali minerali, soprattutto magnesio, manganese, ferro, potassio e vitamine, soprattutto vitamine del gruppo B. Ciò che la contraddistingue ovviamente è un'ottima concentrazione di carboidrati, però questi carboidrati sono definiti a lento rilascio, cioè gli zuccheri vengono assorbiti molto lentamente, per cui ha un minore impatto sulla glicemia. E soprattutto questi carboidrati a lento rilascio o amido resistenti sono un ottimo supporto anche per il benessere del microbiota intestinale. L'avena è ricca di fibre, soprattutto fibre solubili, in particolare i beta-glucani. Queste fibre aiutano a ridurre l'assorbimento intestinale degli zuccheri, riducono il colesterolo e danno anche questo, un aiuto per chi è a dieta, un ottimo senso di sazietà. E regolano il transito intestinale, quindi aiutano a combattere la stitichezza. L'avena è un cereale, appunto anche per questa grossa consistenza di carboidrati, anche molto energetico, tonificante. Ha un'ottima digeribilità e combatte anche la stanchezza e l'insonnia. Contiene un composto fenolico chiamato aventranamide che ha un ottimo potere antiossidante, quindi combatte i radicali liberi, ma viene studiato anche per le sue proprietà antiaterosclerotiche, quindi combatte la formazione delle placche aterosclerotiche. Ha anche una buona capacità antinfiammatoria e siccome induce il rilascio di ossido nitrico, ci aiuta anche a mantenere sotto controllo i livelli di pressione arteriosa. Davvero un cereale dalle mille proprietà, ma ci possono essere delle controindicazioni per chi ne fa un consumo eccessivo? Allora, le controindicazioni riguardano soprattutto chi è intollerante o algegico al nickel, chi soffre di calcoli renali oppure chi ha l'uricemia alta. Questo perché contiene un grosso quantitativo di purina. Mentre è sempre un po' oggetto di dibattito se possa essere consumato o meno dai celiaci. In realtà sembra dagli ultimi studi che i celiaci riescono comunque a tollerare questo cereale, laddove non avviene, non è tanto per il contenuto di glutine, contenuto nell'avena, ma quanto per la contaminazione con altri cereali. Come lo possiamo preparare in cucina? Sappiamo che comunque è un cereale dal sapore un po' anonimo. Sì, allora in effetti l'ideale sarebbe consumato nelle zuppe, quindi mischiate anche con altri cereali oppure in combinazione con dei legumi. I chicchi li possiamo utilizzare per accompagnare delle minestre o delle zuppe, i fiocchi come dicevamo per la colazione, ma anche come spuntino insieme ad esempio a dello yogurt. Oppure l'avena può essere utilizzata anche per produrre in casa delle barrette o del muesli, magari insieme a della frutta secca o delle scaglie di cioccolato. Ovviamente la farina la possiamo utilizzare per i classici prodotti da forno. E il latte, sebbene viene chiamato latte di avena, non è un latte vero e proprio, perché non ha le caratteristiche proprie del latte vaccino, è più una bevanda, però è un'ottima soluzione per chi è intollerante al lattosio. Grazie dottore, grazie anche ai nostri telespettatori. L'appuntamento con la nutrizione e il benessere torna la prossima settimana.